Buongiorno, buona domenica amici di Pavia Play. Oggi, dialetto pavese, parliamo di un dolce natalizio, il panettone, lo facciamo con il grande Gianfranco Amanenti, detto bombino, il quale ci regala una bellissima poesia dal Dutur. Una poesia meravigliosa di Paolo Zanocco, al Dutur, che parla del dolce di Natale, il dolce per eccellenza, il panettone. Sentiamo come il Dutur descrive questo dolce, il panettone. Il Dutur è un dolce normale, spettava per tagliato che gli aveva il Dio, si era precioso, arrivava da Milano. Adesso, il Dini mort, ci siamo qui. E' un mistero, costa il Mendel Pamm. T'en cavalli canditi, ti pittura e ti farci la crema al gran Marnier. T'en impienito, ma fiusciti un capone. Ti, non so più ti. La gente, le belle andò. Nadal, le ammà la festa di Dene. Però per me, nel D, dal panettone. Bravo Dutur, ciao!